Siamo a Taranto, in pieno centro, in via d'Aquino, a pochi passi dalla prefettura dove si è tenuto l'incontro di Conte con otto ministri e con la stampa. Conte ha magnificato gli interventi del governo per Taranto, ha magnificato l'acquario. Benvenga l'università, la facoltà di medicina, per carità, però benvenga l'ospedale se mai nascerà, perché per me è una favola che in 399 giorni verrà realizzato, ma comunque c'è un problema grosso, il male dei mali di Taranto, il cancro dei cancri che si chiama Ilva Arcelor Mittal, è sotto l'aspetto occupazionale, è sotto l'aspetto ambientale. Il premier Conte ha dichiarato che oggi non si è parlato di Ilva Arcelor Mittal, ma si ripromette di ritornare a Taranto. Conte vive nel futuro, faremo, faremo, e intanto a Taranto si muore di cancro, e intanto a Taranto lo stabilimento sta crollando a pezzi, e intanto per gli operai non c'è alcuna certezza occupazionale. Vivono nella disperazione, sono persone che hanno una loro dignità e che hanno da portare il pane a casa dei propri familiari per vivere onestamente. Io non ho certamente concordato questa intervista, così come altri emittenti invece hanno concordato le interviste con Conte. ho incontrato da uomo libero, da giornalista libero, da persona che si è fatta da sola, ho incontrato dei lavoratori, i quali mi hanno chiesto di poter esporre la propria posizione, il proprio dramma. Lo striscione reca la scritta, Ilva integrazione salariale subito o sarà caos? Siccome il mio è un giornalismo di strada dalla parte dei cittadini, è giusto e doveroso dare loro la parola. Ok, partiamo dal presupposto che io insieme a un altro collega eravamo stati invitati a partecipare alla riunione con i sindacati, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Forse gli operai effettivamente danno fastidio a quello che dicono loro. La seconda cosa, volevo fare una domanda al signor Conte, è venuto qui a una cosa bellissima, all'Università Taranto. Se noi non abbiamo un presente, con quale futuro i nostri bambini devono andare all'Università? Niente, poi siamo abbandonati, noi stiamo qui abbandonati, soltanto non ci pensa nessuno, né sindacati, né istituzioni, abbandonati a 800 euro al mese. Non so per quanto potremmo andare ancora avanti. Ho dichiarato oltretutto che la fabbrica sta letteralmente crollando a pezzi, sta collassando. Conte cambiava argomento, Conte parlava dell'acquario. Ma Conte si fida molto di chi è all'interno dello stabilimento, parlo sempre di dirigenti. Forse non ha mai parlato con gli operai, effettivamente. Non sa cosa significa lavorare in acciaieria. Noi ci siamo stati vent'anni e sappiamo com'è quella situazione. Siete tutti operai liberi non legati a sigle sindacali. Proprio questo per dimostrarvi che non c'è nessuna strumentalizzazione, ma c'è la voglia di dare voce a chi non ha voce. Questa è la mia mission di giornalista. Prego. Buongiorno. Noi siamo veramente delusi dagli atteggiamenti avuti dal Presidente Conte perché, come ha detto il collega stamattina, abbiamo fatto richiesta per partecipare all'incontro, solo che l'operaio viene sempre scartato dappertutto. Io non voglio... Prego, prego. Non è di certo colpa nostra se lo stabilimento verse in questa situazione. E siccome noi in tutti questi anni abbiamo respirato male, abbiamo pagato un sacco di tasse, non possiamo essere esclusi da qualsiasi tipo d'accordo positivo dove rientriamo tutti noi operai, dove andiamo a chiedere a gran voce l'aumento del salario. Con 800 euro al mese si fa la fame. Certamente. Però a prescindere adesso dal fatto che si faccia la fame non è proprio una cosa giusta, non è una cosa che deve colpire l'operaio perché, ripeto, se lo stabilimento verse in quelle condizioni non è di certo per colpa nostra, ma bensì per l'amministrazione straordinaria anni addietro, Arcelor Mittal che non ha investito nemmeno un euro, e non capisco perché tutte queste situazioni le devono pagare solo ed esclusivamente gli operai. Arcelor Mittal non si tocca, per il governo è sacro Arcelor Mittal. Deve intervenire lo Stato con Invitalia, ma Arcelor Mittal non si tocca. Abbiamo un governo schiavo di Arcelor Mittal. Non sono i sindacati schiavi di Arcelor Mittal. Pure i sindacati sono schiavi di Arcelor Mittal. Vanno a braccetto con Arcelor Mittal i sindacati. L'azienda consente ai sindacalisti di rimanere in azienda, a fare nulla, lo sottolineo, nulla. Noi operai siamo a casa, i sindacati ogni mattina vanno e timbrano il cartellino. Non generalizziamo, ci sono le persone per bene e le persone non per bene, come in ogni settore. Benissimo. Io dico una cosa, non voglio essere presuntuoso, ma mi potete dare atto. Non voglio fare nomi, ma altre emittenti, un'altra emittente in particolare, è scappata rispetto alla vostra richiesta di poter... Possiamo confermare. No, 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 non voglio fare nomi. C'è una realtà che è scappata. Io sinceramente credo di essere un piccolo giornalista, ma con la schiena dritta. Abbiamo chiesto l'attenzione anche degli altri emittenti, solo che gli altri emittenti sono andati via. Io ci sono, loro no. Su questo c'è da dare atto. Interessa più conti ai sindacati degli operai. Per l'ennesima volta si è visto da parte di questo emittente che non ha a cuore il problema delle famiglie, ma ha a cuore quello che viene detto nelle Camere istituzionali. Sarò sempre dalla vostra parte e dalla parte dei lavoratori, perché vengo da umili origini, non vengo dalle alte sfere. Buon lavoro ragazzi per quello che si può dire in bocca al lupo. Grazie, grazie per il lupo. Ma noi non ci fermiamo, noi lotteremo. Sino a quando la nostra voce arriverà dove deve arrivare, perché noi con le nostre famiglie non ce la facciamo più. È il sistema che ci vuole vedere incazzati. E noi siamo pronti a rincazzarci. Oltre il sistema a volerci vedere incazzati sono i sindacati che remano contro di noi operai. E il governo che remano contro noi, quindi anche il governo. Se mai avessero portato a termine gli obiettivi comuni non saremmo di certo qui oggi. Un'ultima cosa, il problema è che lo stipendi è quello, ma ci sono da pagare le tasse, c'è arrivata la spazzatura, c'è da pagare adesso.